Per investire in maniera semplice, diversificando in modo efficace, spesso si parla degli ETF di Vanguard, dei cosiddetti live strategy, che permettono di esporsi ai mercati con una quota fissa di azionario e di obbligazionario. Si va da quelli con una esposizione maggiore all'azionario pari all'80% per poi scendere a quelli più difensivi con una quota di azionario al 20% e una di obbligazionario all'80%. Come fa vedere finvestire in un ottimo post su Instagram esistono però tre motivi per cui investire in un singolo ETF di questo tipo potrebbe comportare dei problemi e io sono assolutamente d'accordo. La prima è che magari ti potresti trovare nella situazione di dover cambiare strategia, magari perché i tassi obbligazionari sono troppo bassi e non ha più senso mantenere bond in portafoglio. In quel caso dovresti vendere tutto l'ETF pagando anche le tasse sull'eventuale guadagno. La seconda è che utilizzano strumenti di copertura del cambio, quindi zavorrando i rendimenti, visto l'alto costo. E voi che ne pensate?